Buongiorno, buon sabato cari telespettatori, allora intanto voglio dire una cosa, questa è la terza volta che dedichiamo una puntata interamente alla questione della sostenibilità ambientale, della transizione ecologica ed energetica, perché intanto è in pieno svolgimento la COP26, cioè il vertice delle Nazioni Unite sul clima che si chiuderà alla fine della prossima settimana, poi perché per esempio la politica italiana poco si interessa, a parte dei convegni specifici, a parte qualche esponente di qualche forza politica, è un discorso che praticamente è assente da come si dice il mainstream della politica concentrata legittimamente su altre questioni, una in primis l'elezione del nuovo capo dello Stato. Facciamo un po' il punto con un parterro ovviamente di esperti, Moreno Zani che è presidente di Tender Capital, che cos'è Tender Capital? È una società di gestione del risparmio inglese che opera anche in Italia e in altri paesi europei. Oh e quindi anche a voi sta molto a cuore tutta quella che io la definirei la transizione economico-finanziaria verso il green, no? È un tema fondamentale per noi, perché comunque noi siamo stati oggetto di una regolamentazione entrata in vigore nel marzo di quest'anno che obbliga le società di gestione e di conseguenza i fondi di investimento a tutta una serie di obblighi e di conseguenza limitazioni negli investimenti per coloro che non adempiono ai requisiti previsti dalla direttiva. Ecco, aspetti, qui già abbiamo capito quanto è strategico tutto questo. Andrea, posso solo aggiungere una cosa? Lui è coinvolto, la saluto, buongiorno perché non ci conosciamo, perché per la prima volta a Glasgow sta venendo fuori un grande patto del capitale privato, che fino a oggi non si era mai mosso alle dimensioni che ci sono state comunicate tra banche, finanziarie, aziende, quindi è un passo importantissimo anche questo, cioè ci si mettono i soldi perché può convenire oltre che essere etico difendere l'ambiente. Morello Zani, ci fa capire cosa vuol dire per delle banche, delle assicurazioni, dei fondi per una grande parte privata, come dicevi tu prima giustamente Alessandro, che vuol dire essere green, riconvertirsi in green dal punto di vista degli investimenti e via dicendo? Allora, torniamo a quello che vi dicevo all'inizio, cioè della direttiva che ha colpito il nostro settore a inizio anno, che in realtà obbliga noi gestori di fondi a dotarci di mezzi per poter investire in società che rispettano tutta una serie di parametri. Detto così sembra una cosa molto semplice e anche quasi che poi lascia il tempo che trova. In realtà, come si dice, se si parte dal soldo poi l'effetto arriva perché togliendo la possibilità ai fondi di investire in società, chiaramente parliamo di strappotate in questo caso, che non rispettano una serie di parametri e che portano il loro livello, al livello minimo investibile, spostano fuori dal mercato tutta una serie di società che oggi invece si trovano ad essere partecipati dai fondi, dunque a ricevere finanziamenti che siano sia in forma di sottoscrizione di capitale o di debito, a favore di altre che invece rispettano una serie di parametri. Poi c'è anche tutto un discorso di controllo sul rispetto vero dei parametri, ma questo è una cosa a parte. quello che probabilmente andrà fatto è, perché visto che non dobbiamo essere un mercato esclusivo, ma inclusivo, è cercare di spingere coloro che oggi non rispettano questo tipo di parametro, che vanno dal carbon, il primo, piuttosto che ce ne sono mille altri, anche a livello sociale, comunque all'interno dei principi che tutti conosciamo, a portarsi verso quella direzione per ottenere l'investimento da parte dei fondi. Quindi questo diciamo costringe, mettiamola così, cerco di semplificare, praticamente anche le imprese, le aziende a riconvertirsi il più possibile verso tutti i discorsi che stiamo facendo, la sostenibilità. Sì, perché c'è un effetto indiretto che deriva proprio da coloro che devono investire, cioè per farci capire semplicemente, il fondo pensione dei ferroghieri, faccio un esempio semplice, che deve investire, non potrà, perché comunque si stanno dotando di policy interne, non potrà più investire in fondi che non hanno un punteggio che poi viene definito dalla direttiva 6, 7, 8, 9, cioè il 9 per il punto è massimo, cioè che è quel punteggio che identifica che il fondo sta investendo in società che rispettano quei principi che la comunità, che la Commissione europea ha dettato nella direttiva. Dunque questo è il vero cambio, perché non ricevono più i soldi, dunque quando si tratta poi di avere necessità di cassa in capitale o in debito, questo poi modifica l'atteggiamento. Dando dei numeri c'è un problema che si sta ampliando il divario, cioè quello che occorre finanziariamente per permettere ai paesi in via di sviluppo l'adattamento ai target, agli obiettivi che abbiamo. Sembra che rispetto a un rapporto del 2016, quindi parliamo di 5 anni di differenza, i nuovi costi solo per i paesi in via di sviluppo si avvicinano, è stato fatto un rapporto, alla parte più alta di una forchetta che veniva ipotizzata. 140-300 miliardi di dollari all'anno entro il 2030 e 280-500 miliardi di dollari all'anno entro il 2050. Stiamo parlando di cifre gigantesche, peraltro Draghi l'altro giorno ha detto che ci sono trilioni di dollari potenzialmente a disposizione. E che cosa vuol dire? Cosa vogliono dire questi dati dal suo punto di vista Moreno Zani? Vuol dire quello che noi abbiamo visto in questi giorni anche con la dichiarazione del gruppo finanziario di Glasgow che ha messo sul piatto 130 trilioni di dollari. Cioè parliamo di 130 mila miliardi di dollari. Perché? Perché quella dovrebbe essere, secondo i calcoli che hanno fatto, anche se parliamo di 30 anni di investimento, quello che dovrebbe servire per aiutare gli investimenti dei vari paesi, soprattutto di quelli che sono rimasti indietro in questo processo, per arrivare a quel livello di sostenibilità ritenuta sufficiente anche rispetto agli obiettivi che si sono dati. In questo senso va quello che abbiamo visto negli ultimi giorni a Glasgow rispetto a quello che lei citava poco fa. Grazie. E se personalmente, scusi, concludo, anche se personalmente io quando vedo queste cifre così importanti, abbiamo già visto tante volte anche in finanza, 130 trilioni, cioè parliamo di una cifra che neanche siamo quasi in grado di immaginare, dunque forse magari qualche obiettivo un po' più alla portata di mano. No, ma lei ha ragione. È come gli alberi, come i miliardi di alberi. È come quando nelle barzellette popolari uno dice ma questi soldi poi ci stanno, no? Cioè ha ragione, bisogna stare attenti. Ci stanno ma ne riusciranno a spenderli, vedrai. Ecco, perché peraltro anche lei ha detto, cioè le risorse ci sono ma vanno impiegate subito e bene. Guarda, io se sono solo in questa settimana ho incontrato almeno tre o quattro fondi che vogliono fare energie rinnovabili in Italia e cercano le autorizzazioni che non ci sono. Che non ci sono.